Domenica 18 agosto alle 18 a Bagnoli del Trigno si riaccendono i riflettori di frammenti d'antico. La manifestazione è giunta alla 27esima edizione che non manca ogni anno di sorprendere con tante novità. A cominciare dai due protagonisti principali, il Duca e la Duchessa, interpretati dall'attore e modello Massimiliano Morra e da Miss Molise Martina Di Stefano, Miss Molise 2023. Con loro una corte di decine di figuranti in abiti creati dalla stilista Paola Donofrio e ispirati all'epoca. Il corteo attraverserà tutto il paese in compagnia di musici, gruppi di musica popolare e sbandieratori. Alle 19 in piazza Umberto I la rievocazione della Elezio Sindaci che si teneva in tempi antichi con il sistema della fava e del fagiolo e, novità di quest'anno, il dono della tela. Dalle 20 invece in piazza Olmo la cosiddetta Terra de Vache, la parte più bassa del paese, via alla festa nel borgo di Santa Caterina. Ricchissimo il cast con il gruppo storico Giovanna D'Angiò di Colletorto, il gruppo folk, l'Ummaccature di Carpinone, i musici e i tamburi di fuoco di arte a Puglia, le farfalle luminose, musica celtica, la compagnia Casti, il giovanissimo campione di Accordeon Francesco Scarselli, gli amici del Bufu di Casa Calenda e ancora uno spaccato di tradizioni del Molise con le traglie di Yelzi e le indocce di Civitanova del Sannio. Nella scaletta della serata la discesa della fata Trignina con il suo messaggio augurale, la rievocazione dello Ius Primen Octis e il seguente incendio artistico del castello San Felice. Tutti gli elementi di un evento in grande stile, con gli spettacoli che saranno proposti sia in piazza che negli angoli più caratteristici del borgo, luoghi che da sempre ospitano in questa occasione un percorso tra sapori e atmosfere del passato con oltre 15 voci del menù, dallo scattone allo scarcio, dalle pallotte cacio e ova, alle poppardelle al cinghiale, dai dolci occhi di fata e fiocchi d'amore al gin, i peccati del duca, un evento completo, frammenti d'antico a Bagnoli del Trigno che ogni 18 agosto rinnova il fascino di uno dei borghi. più belli della regione.